Certamente la sfida di mostrare delle cose che io conosco ad una persona che non le conosce. Sicuramente la curiosità che mi ha fatto abboccare a questa proposta allettante fatta da Roberto, quindi se sono curioso è perché penso di trovare cose che non conoscevo. Facendo scoprire all'altra persona che c'è un'Italia che funziona, che andrebbe copiata. Mi aveva un po' intrigato il fatto che lui la pensasse chiaramente in modo diverso da me, però aveva un modo di approcciare la problematica in modo abbastanza critico e non troppo ideologico. Abbiamo il solito discorso nel quale io dico che sarebbe meglio fare più 100 kg, non meno 100 kg. Tutta la qualità è iniziata, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va. Non si va, non si va, non si va. Oggi è venuto questo Roberto. Ci ha fatto vedere che buttiamo via troppe cose. Benissimo. E' un signore che ha fatto uno spettacolo e dice che se facciamo tutti come te, quando sarò grande ci saranno troppi rifiuti. Tu sai che cosa vuol dire riciclare? E' altro che lo so. Sì, però tu non lo fai. E' da me. Com'è che in Italia siamo il doppio, consumiamo il doppio di acqua in bottiglia dei francesi? Sì, come non so come mai ci piaccia così tanto l'acqua minerale. C'è poca fiducia nell'acqua pubblica. E questo è un dramma. Esatto. E lo so.